Buongiorno ragazzi, oggi vogliamo ripassare i multipli e i divisori. Quando un numero è multiplo di un altro, i multipli sono quei numeri che contengono un altro numero in modo esatto, cioè senza il resto. Facciamo un esempio, 3, 6, 9, 12, 15, eccetera, sono tutti multipli di 3. Perché sono multipli di 3? Perché se io li divido per 3, il risultato della divisione non ha un resto, quindi sono contenuti un numero esatto di volte. E qui ho fatto l'esempio, vedete, se io faccio 3 diviso 3 viene 1, 6 diviso 3 viene 2, 9 diviso 3 viene 3, e tutte queste divisioni non hanno mai un resto. Questo ci fa capire che i multipli di un numero sono infiniti, cioè non finiscono mai. I divisori invece cosa sono? I divisori sono i numeri che sono contenuti in un altro numero, un numero esatto di volte. Guardate la differenza, i divisori sono contenuti, cioè sono i divisori che stanno dentro il numero, i multipli contengono, cioè hanno dentro di sé. Vedete che i due verbi sono proprio differenti. Allora, un altro numero, quindi quali sono i divisori? Supponiamo di avere il numero 35, i suoi divisori sono 1, 5, 7 e 35. Quindi questa prima cosa ci fa capire che i divisori non sono come multipli infiniti, ma hanno un limite, sono limitati, non sono infiniti. E poi ci fanno capire un'altra cosa, che ogni numero ha come divisore 1 e se stesso, come in questo caso, 1 e 35. Quindi c'è tra multipli e divisori una relazione che noi chiamiamo inversa, cioè 55 è multiplo di 11, ma 11 è divisore di 55. Lo vedete che ho fatto le due frecce della relazione, ma sono due frecce di colore diverso perché indicano una relazione esattamente uno e il contrario dell'altra. 55 è multiplo, 11 è il divisore. Come sapete, dopo la spiegazione, viene la parte in cui tocca a voi lavorare. E allora io ho preparato questo semplice esercizio che fate chiaramente in un nanosecondo perché siete bravissimi, per cui per copiare tutti questi numeri poi bloccate il video, così potete copiarli con calma. Si tratta di dire se i numeri che sono sulla casella di sinistra sono multipli o divisori dei numeri che sono messi nella colonna di destra. In questo caso 12 è multiplo di 4. 4, vi aiuto, sarà di 12 il divisore, quindi 4 è divisore di 12. Buon lavoro!